Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi di queste cuffie Bluetooth Wireless Boommaker, una marca che probabilmente non vi dice nulla, ma nonostante non sia una marca molto famosa, le cuffie in questione hanno un certo costo. In questo periodo ho provato diverse cuffie, cuffie che vanno nelle orecchie, cuffie che si appoggiano alle orecchie, cuffie come queste che coprono completamente le orecchie. Ci sono tre categorie differenti di cuffie Bluetooth. Queste cuffie sono estremamente comode, davvero, ne ho provate diverse in questo periodo e vi posso assicurare che queste cuffie sono davvero comodissime, non comode, comodissime, almeno per me. E adesso vi mostro il perché. Come potete vedere, chiudo qui, il driver o padiglione, che dir si voglia, è imbottito, e fin qui diciamo non vi è alcuna novità in quanto tutte le cuffie sono generalmente imbottite. Solo che la forma del driver, della cuffia, come potete vedere, è fatta in modo che quando indossate le cuffie coprono completamente le vostre orecchie, non si appoggiano sulle orecchie, ma le vostre orecchie vanno praticamente all'interno. Cioè, avete praticamente tutto l'orecchio coperto, quindi non avete magari col tempo il peso delle cuffie sulle orecchie. Sono davvero comode. Sinceramente ci sono rimasto quando le ho indossate, le ho acquistate perché dalla descrizione, dalle foto, mi avevano convinto. E devo dire la sincera verità, che sono soldi spesi molto bene. Ora, fino adesso non ho trovato un paio di cuffie che sia comodo come, diciamo, il driver di Corsair. Ossia queste. Adesso ve le mostro. Eccole qua. Praticamente questi driver sono insuperabili. Sono estremamente comodi e non ho trovato fino adesso un paio di cuffie a bluetooth più comode di queste. Ma vi posso assicurare che nonostante ciò queste cuffie sono molto più comode di tutte quelle che ho testato fino adesso. Quindi, le cuffie, avete capito, sono molto comode. Sono morbidi, molto cuscinosi, se così posso dire, i driver. E ovviamente possono essere regolate, vedete? Come tutte le cuffie del resto. E, diciamo, hanno una buona comodità. Quindi si adattano alle teste, praticamente, di tutti. Perché possono essere regolate, sono molto, diciamo, comode. Leggere non tanto, ma nemmeno tanto pesanti. Quindi, diciamo, una via di mezzo. Poi, diciamo, l'archetto superiore è realizzato in modo da adagiarsi alla testa di colui o colei che le indossa senza appesantire, diciamo, nel corso del tempo. Quindi possono essere utilizzate anche per molto tempo senza, magari, avvertire qualche problema o qualche fastidio alle orecchie, alla tese, insomma. A differenza di altre cuffie, che solitamente ha i tasti qui per regolare il volume, o, magari, nel caso delle cuffie gablate, ha tipo dei pulsanti sul cavo, queste cuffie hanno una manopola, vedete, che è sinistra. Infatti, all'interno dei driver, non so se vedete, praticamente c'è scritto una R, non so. Adesso metto in controluce, no, non si vede nulla. Ok, forse qui vedete qualcosa. Praticamente c'è scritto RL, in questo modo sapete come vanno le cuffie. Nel driver sinistro c'è questa manopola che, praticamente, può essere girata, ruotata, così, in questo modo qua, e può essere utilizzata per aumentare e diminuire il volume. Poi ci sono due tasti, uno per l'accensione delle cuffie, che è questo che sta di qua. Eccolo qua, questo qua. E di qui, invece, c'è il tasto per attivare la modalità per la cancellazione del rumore. Inoltre ci sono i tastini per andare avanti e indietro di tracce musicali, mettere in pausa e così via dicendo. Ovviamente le cuffie Bluetooth possono essere utilizzate anche con il cavetto, collegandolo qui, e hanno una durata della batteria che varia a seconda del tipo di utilizzo, se magari attivate o meno la cancellazione del rumore, se aumentate o diminuite il volume delle cuffie, e così via dicendo. Appena le acquistate, le ricevete, vi consiglio di ricaricarle, si ricaricano praticamente collegando un cavetto USB qui, che trovate in dotazione, e si accende un LED rosso durante la carica e diventa blu quando le cuffie sono cariche. Una volta cariche, avete la possibilità di utilizzarle al meglio con il massimo volume, perché magari all'inizio, quando le indossate, sono un po' scariche, il volume non supera i 60%, e quindi vi sembrerà che le cuffie sono abbastanza basse come volume, ma ricaricatele e il problema comunque è risolto. Sono cuffie comodissime, consigliate più di quelle di cui vi ho parlato fino adesso, se siete interessati all'acquisto, il costo è di circa 50€.